Il digiuno intermittente può essere uno strumento straordinario nelle tue mani, uno stress forzato nel corpo, costretto a funzionare ogni giorno e per alcune ore in assenza del cibo esterno. E questo porta a conseguenze assolutamente dirompenti e interessantissime che stanno studiando scienziati in tutto il mondo. Questo digiuno è intermittente perché non lo fai per tutto il giorno, ma solo per alcune ore e lo metti in campo all'interno di abitudini sane dove negli altri pasti hai creato ordine ed equilibrio e quindi consumi una prevalenza di verdure cotte, grassi sani e proteine fresche ben variate e di qualità tenendo bassi zuccheri e carboidrati. Fatto ad intervalli e all'interno di una pratica sana diventa spontaneo, assolutamente naturale e incredibilmente benefico e non lo avverti come una forzatura. Se lo avverti come una forzatura dedicati prima a cambiare le tue abitudini e non pensare al digiuno come prima cosa. Vediamo gli straordinari regali di questa pratica, che è la mia compagna fedele da più di vent'anni, gli stessi anni da cui bevo acqua calda. Innanzitutto ristabilisce l'equilibrio insulinico, cioè calma ed evita la presenza di insulina nel sangue, eliminando l'insulino resistenza delle tue cellule e rendendoti un bruciatore di grassi felice o come dicono molti scienziati, metabolicamente flessibile e ristabilendo gradualmente il peso forma senza fatica. Svuota le tue riserve di glicogeno, cioè quelle prime riserve di cibo che servirebbero in caso di bisogno e che essendo cronicamente piene fanno sì che ciò che mangiamo vada subito nelle cellule adipose, facendoci ingrassare anche solo guardando il cibo. Gli scienziati dicono che 24 ore di digiuno azzerano queste riserve e ci consentono di sbloccare il metabolismo e di iniziare finalmente a perdere peso. Il digiuno poi stimola l'apoptosi. Cosa vuol dire? È il ricambio cellulare, il lavoro notturno del sistema immunitario che se libero dal cibo è completamente a riposo, procede ad eliminare tutte le cellule usurate, danneggiate o fuori norma, creando al loro posto nuove cellule sane. Questo processo è fondamentale ed è la migliore prevenzione che tu possa fare contro le malattie autoimmuni e degenerative. Gli scienziati sempre più pongono il dito su questo. Il digiuno intermittente è una settimana di digiuno all'anno, è la migliore garanzia di detox ed è la migliore strategia per mantenere la tua salute a breve ma soprattutto a lungo termine. Riducendo poi l'azione dell'insulina, il digiuno intermittente tiene basso anche il fattore di crescita, il cosiddetto IGF-1, l'ormone che stimola in modo esagerato la duplicazione cellulare selvaggia e che è uno dei colpevoli dell'inizio del processo degenerativo. Il digiuno promuove la produzione di nuove cellule staminali, che sono le cellule deputate a produrre costantemente nuovo materiale sano per le cellule del corpo. Quando digiuniamo, arriva il messaggio alle cellule staminali di mettersi in azione. E questo è il migliore strumento anti-aging, cioè anti-invecchiamento, che abbiamo naturalmente in dotazione. Ristabilisce i tuoi sani ritmi circadiani, cioè ti fa essere attivo al mattino, e quindi produttivo, e invece stanco la sera, favorendo un profondo sonno ristoratore. Tutto questo lo fa riportando in ordine gli ormoni e nello specifico il cortisolo, che deve essere alto al mattino e basso la sera. Il digiuno intermittente favorisce anche il tuo equilibrio intestinale, guarendola di sbiosi. Favorisce un reset della flora batterica intestinale e la comparsa di nuove specie di batteri e la riduzione di lieviti e parassiti. Gli scienziati attribuiscono al nostro microbiota intestinale sofferente e in squilibrio molte delle cause dei principali problemi di salute moderni. Promuove la salute del tuo sistema immunitario, che ha nell'intestino la maggior parte dei suoi recettori e che riparte e si rigenera ogni volta che facciamo 18 ore di digiuno intermittente. Favorisce le performance e l'energia del tuo cervello, rendendo il tuo cervello maggiormente neuroplastico e aumentando il numero di neuroni, facilitando la comunicazione tra loro e questo ti aiuta ad essere più pronto a pensare con più rapidità e a imparare più facilmente, trattenendo più a lungo le informazioni. Il digiuno poi favorisce le performance del tuo cuore, aiutandolo ad avere tutti i nutrienti essenziali, il ricambio cellulare, la pulizia di vasi e tessuti e lo protegge dai danni infiammatori. Sempre più studi stanno finalmente attribuendo a questa pratica la capacità del nostro cuore di essere plastico ed adattabile, due condizioni fondamentali per la sua longevità. Come puoi iniziare a praticare il digiuno intermittente? In Allegato trovi il link ad una completa guida per farlo in sicurezza.